Abbiamo deciso di parlare di criminalità organizzata qui in Europa perché pensiamo che sia molto importante poter vedere il fenomeno da diversi punti di vista e da diversi paesi europei. Si tratta di un fenomeno che ormai è diventato trasnazionale e non è più possibile negare questa evidenza. Le mafie sono presenti in tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi è importante che questo problema venga affrontato in maniera trasversale e siamo qui appunto per parlare di questo, per parlare dei possibili contrasti, delle buone pratiche e di come potrebbe agire l'Unione Europea da questo punto di vista. Le mafie non sono italiane, nel senso che oramai le mafie sono globali, si muovono in tutto il mondo e quindi è necessario prenderne consapevolezza, è necessario conoscerle e soprattutto comprendere come si muovono perché oggi non sono riconoscibili ed è questo che bisogna condividere. Innanzitutto una capacità di individuare gli elementi indicatori che sono fondamentali, si acquisiscono solo con l'esperienza e poi l'esigenza di condividere le strategie, di essere tutti insieme pronti a reagire alla presenza di operatività mafiose coinvolgendo i paesi direttamente interessati, fare in modo cioè che si possa operare come un unico Stato. I paesi europei e i paesi del mondo, diciamo con la Convenzione di Palermo, si dovrebbero muovere tutti con la consapevolezza che in mancanza di una coscienza comune, di una immediata operatività di tutti, le mafie vincono, perché le mafie sono capaci di muoversi in un secondo. Se noi invece ci muoviamo come un elefante, quindi molto rumorosamente e con lentezza come una tartaruga, è evidente che non riusciremo mai a contrastarle efficacemente. Innanzitutto conoscerle e poi velocità nell'ambito della condivisione. Nel 2020 abbiamo per i porti del nord Europa, i tre porti a Versa, Rotterdam, Hamburgo, abbiamo un sequestro di 68 tonnellate. Nel 2021 solo nel porto qui, di questo paese, ne abbiamo avuto nel 2021 ben 28 tonnellate. E quindi questi sequestri vi fanno comprendere come è evidente che se una quantità così imponente cade in sequestro, una quantità di gran lunga superiore, moltiplichiamola almeno per 10, riesce ad entrare. Altrimenti le organizzazioni mafiose non tratterebbero la cocaina e la farebbero entrare attraverso i porti in cui hanno invece organizzato una struttura stabile. Dire che in calo è proprio contrario a quel che invece avviene. Il traffico di sostanze stupefacenti si moltiplica di anno in anno e diventa sempre più forte e diffuso e vede la complicità non solo, come si diceva poc'anzi nella domanda, dei produttori e mediatori dell'America centrale e meridionale, ma una loro presenza in Europa. Oggi vengono come va un rappresentante di commercio, si incontrano, trattano insieme gli affari, si muovono con una disinvoltura e con una spregiudicatezza che veramente sorprende, ma questo fa comprendere come nei vari paesi europei non si è ancora in grado di capire chi sono questi produttori e come bisogna intervenire contro di loro. Ma questa è la punta dell'iceberg, nel senso che il traffico di sostanze stupefacenti è comunque una ricchezza illecita per le mafie che si disperde invece nel reinvestimento nelle società di capitali che operano in Europa. E' questa la parte molto più difficile da contrastare. La cocaina si trova, si comprende chi la tratta e quindi si arrestano, ma le società di capitali, quelle che riescono a reinvestire quel danaro, questi grandi flussi finanziari, i virtual asset che vengono utilizzati per far passare il danaro senza controllo, l'assenza di una disciplina che effettivamente riesca a prevenire e contrastare tutto questo. Ma quando si interverrà? Si parlava dei dati digitali, ma i dati digitali sono anche quelli di Facebook, di Instagram, del 5G, di tutti questi dati per i quali ancora un paese europeo per poterli acquisire ha necessità di una rogatoria. Ancora l'Europa non ha fissato una disciplina che ponga i prestatori di questi servizi direttamente a disposizione delle autorità giudiziarie che intervengono. E quindi anche questo è un rallentamento enorme. L'Europa bisognerebbe che avesse maggiore sensibilità per questi temi, perché tutto ciò che viene portato avanti illecitamente si riversa poi sull'economia, sul lavoro e quindi sulla impossibilità delle imprese sane di lavorare, perché sono tutti soldi che si tramutano in soggetti economici che operano in Europa e nel mondo e fanno una concorrenza sicuramente sleale. Le loro ricchezze provengono dal traffico di stupefacenti.